La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha emesso un'ordinanza al fine di prevenire e contrastare la prostituzione sul territorio comunale. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 20 agosto, prevede multe per chi porrà in essere comportamenti volti ad offrire prestazioni sessuali a pagamento e per chi, alla guida di veicoli, eseguirà manovre pericolose o di intralcio alla circolazione per concordare prestazioni sessuali a pagamento. Una decisione che riprende una precedente ordinanza, grazie alla quale, si legge nel provvedimento, si è registrata una significativa azione di contrasto del fenomeno della prostituzione su strada grazie all'intensa attività posta in essere dalle forze di polizia operanti sul territorio.